Bene ragazzi, stiamo guardando come si fanno gli integrali quando abbiamo un rapporto tra due polinomi, il numeratore ha il grado più basso del denominatore, quindi non bisogna fare la divisione dei polinomi, però la domanda è sotto un x alla terza, questa cosa si può scomporre per ottenere dei fattori? Si può scomporre per ottenere dei fattori? Sì, si può fare tra l'altro ragazzi in due modi, essendo un x alla terza, o ci si ricordano i prodotti notevoli della prima liceo, o si fa ruffini, uno dei due. Qui questa è la somma di cubi, quindi io utilizzo la regola della somma di cubi, quindi quelli di prima liceo non guarderanno questo video ma potrebbero sorridere. In quinta si potrebbe fare ruffini pensando che il numero magico che annulla tutto è meno uno, e comunque vi dovrebbe venire, voi fatelo per esercizio se non vi ricordate la somma dei cubi, che quindi verrebbe x più uno per, allora si fa il quadrato del primo più il quadrato del secondo, se c'è il più meno, il falso prodotto tra x e uno, quindi viene una cosa del genere. A questo punto lo metto, quindi se fate ruffini ottenete la stessa cosa, ok? Adesso metto un attimo semplicemente a posto le cose, quindi viene x più uno per x alla seconda meno x più uno, tra l'altro se vi fate questo per questo ovviamente deve risaltare fuori x alla terza più uno. e adesso mi chiedo, questa cosa qua è ulteriormente scomponibile? Mai! La somma di cubi crea una cosa che non è scomponibile, infatti, ovviamente in prima liceo non si può dire, ma questo ha sempre il delta negativo. Non si può dire perché il delta si guarda in seconda, quindi l'idea qual è? Ho il per, adesso sono pronto a fare l'atto di fede. L'atto di fede cosa implica? Che avendo una cellula con x più uno e una cellula col delta negativo, allora la cellula con l'x più uno mi crea il solito pezzettino facile tipo A fratto x più uno. Questo pezzo qui è una cellula che invece mi crea i due pezzi un pochino più fastidiosi, ok? Riguardiamo comunque sempre la tabella, col delta negativo creo il pezzo viola e il pezzo nero col lato di fede, questi due, ok? Che contemplano il fatto che io AB lo moltiplico per la derivata di quello sotto, allora la derivata di x alla seconda meno x più uno è 2x meno uno, e sotto ci metto lui, così in questo modo, in modo furbo, mi sono creato sopra f' e sotto f, quindi un logaritmo, più c che moltiplica uno fratto x alla seconda meno x più uno. È facile, difficile ragazzi, integrare, beh, col lato di fede diventa una bagianata, perché il primo è un logaritmo, a ln di x più uno. Col secondo è un altro logaritmo, perché mi sono creato apposta la derivata sopra, quindi di x alla seconda meno x più uno. Ecco l'ultimo, è sempre il nostro amico, no? Col delta negativo, quindi da fare col 2 fratto radice di meno delta, allora il delta negativo è quanto vale? Devo fare 1 meno 4, quindi meno 3. La radice di meno delta, quindi è la radice di 3, e quindi niente, viene 2 fratto radice di meno delta, quindi radice di 3, a tangente di che cosa? Della derivata, quindi, del denominatore, quindi ho un 2x meno uno, fratto la radice di meno delta, che è la radice di 3. Non razionalizzo, me la tengo così. Adesso, ragazzi, ho finito, ho scritto il risultato, e qui faccio un più k, controllo che ho messo i dx quando ho fatto i passaggi, tipo qui non l'ho messo, quindi poi alla fine, guardo un attimo, devo averli messi ovunque. E adesso devo trovare a, b e c. Come si fa? È quando faccio l'atto di fede. Quindi, l'atto di fede l'ho fatto in questo passaggio, quindi ho sperato, ho pregato, che questa quantità qui si potesse scrivere in un altro modo, quindi nell'ultimo passaggio facciamo solo l'atto di fede, cioè che a fratto x più uno, più b per 2x meno uno fratto questo denominatore, più c per uno fratto x alla seconda meno x più uno. Si fa sempre allo stesso modo, eh? Quindi ho a, b e c, quindi creo un sistema a tre, quindi mi aspetto ovviamente la potenza del due, la potenza dell'uno e la potenza dello zero, quindi mi aspetto un 0x alla seconda più un 0x più uno. Cioè mi aspetto di là di arrivare fino al secondo grado e mai al terzo. Ok? E infatti succederà così. Non può praticamente arrivare al terzo perché significherebbe che non ho fatto la divisione di polinomi, quindi è proprio intrinseco il fatto che non ci può arrivare. Quindi ragazzi, a cosa moltiplica? A moltiplica x alla seconda meno x più uno. B col 2x meno uno moltiplica l'x più uno. E il C moltiplica solo l'x più uno. Allora, capite che il problema diventa trovare A e B C in questi esercizi, non fare l'integrale. Quindi questa parte va via. Adesso guardiamo i pezzi che creano l'x alla seconda, perché di qua ho 0x alla seconda più 0x più uno uguale A. Allora, che è che crea l'x alla seconda? L'x alla seconda viene creato, questo perché moltiplica A, ma viene creato anche quando faccio x per 2x per B, quindi ho un più 2B. La x quando è che viene creata? Qui, quando moltiplica un meno A. Poi qui viene creata due volte, perché ho 2x che moltiplica uno, con un B, quindi ho un più 2B, ma anche quando ho la x che moltiplica meno uno, che moltiplica il B, quindi ho un meno B. E poi quando la x moltiplica la C. E poi ho il termini noti? Sì, perché ho A quando moltiplica l'uno, ho la B quando moltiplica il meno uno e l'uno, quindi ho un meno B. E ho anche la C, quindi uno qui dice, oh mio Dio, diventa molto difficile risolvere il sistema. Vabbè, a parte che qui 2B meno B fa B. però capite che il problema adesso diventa risolvere il sistema. Vediamo se è difficile. Allora, quindi A più 2B deve fare però 0. Poi, meno A più B più C deve fare 0. e 1 deve essere uguale a A meno B più C. Allora, qui ragazzi ci vuole anche un pochino di intelligenza per fare questo esercizio, perché quando è lungo i sistemi sono difficili. Allora, ad esempio, io vedo che la seconda e la terza riga sono molto simili, quindi faccio ad esempio la riduzione, perché se io faccio la seconda riga più la terza, meno A più A fa 0. B meno B fa 0. C più C fa 2C. Quindi questo vuol dire che una riga si sacrifica e diventa la loro somma. Quindi questo fa 0. B meno B fa 0. C più C fa 2C. E 0 più 1 fa 1. Quindi vedete che ho trovato velocemente quanto fa C, però i modi per fare i sistemi. Quindi viene C uguale a 1 mezzo. Quindi qui praticamente C fa 1 mezzo. Vabbè, 1 meno 1 mezzo fa 1 mezzo. Adesso, vabbè, è matematica spicciola, però la facciamo. E quindi ho che A più B fa 0. Questa riga non sarete più niente. Che A meno B fa 1 mezzo. Allora, cosa significa, ragazzi? Che A, ad esempio, vale meno 2B. Quindi A vale meno 2B. E quindi cosa avviene? Viene meno 3B uguale ad un mezzo. E quindi B uguale a, divido per 3, quindi meno un sesto. E A vale meno 2 per meno un sesto. Papam, 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 papam. Un terzo. Quindi vedete che la parte più difficile era trovare A, B e C. Che è una cosa che si dovrebbe saper fare in prima, no, in seconda al liceo. Trovare A, B e C, eh, questi esercizi. Vado a sostituire perché A viene quindi un terzo, B viene meno un sesto e C risulta un mezzo. Qui ci mettiamo il più K. E io, che avevo già integrato secoli fa, però sono riuscito a trovare i giusti coefficienti con cui ho trovato la mia primitiva.